La prima terminata dell'incontro tra Los Millenarios e Old Friends, partita terminata, 3 a 1 per i Los Millenarios. Siamo qui però con i due migliori della squadra che è uscita sconfitta, Di Luccio e Mugnano. Secondo voi questa sconfitta è meritata? Sì, aveva vinto 3 a 1. Secondo me potevamo anche dilagare, dobbiamo fare anche il più bull quando ci sta facendo il prevedo. Allora, iniziamo obiettivi, secondo te non iniziamo obiettivi. No, ero un attimo scombussato perché alla prima volta io mi trovo tutti e due di una sola scuola, quindi vi devo dividere. Allora partiamo prima della team, questa squadra dovevo poter arrivare. Secondo me le finali le facciamo. Per te? Secondo me sì, possiamo puntare alla finale direttamente e possiamo anche lì, certo se giochiamo mai sapere. Tu Dedica? Dedica tutta la squadra. E il mio nostro nuovo compagno. Andrò, di Luccio. Tu Dedica? Al capitano Mugnano e al nostro amico Vincenzo Avoglio che non c'è. Grande Vincenzo. Poi diamo lo sponsor, dai. Tutto al lupo per le prossime partite. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ciao.